Io penso che in questo momento il governo possa saltare solo se non si fanno le cose per gli italiani. Io sinceramente sono un po' stufo dei tentennamenti nella maggioranza sull'acqua pubblica e rallentano quelli della Lega, sulla questione del salario minimo e si rallenta, ma anche su tanti altri fronti, per esempio riconoscere una maggiore indennità ai nostri militari di strade sicure. E in queste ore vedo che si sta facendo un po' troppa melina su dei provvedimenti che l'Italia aspetta da decenni. Penso al provvedimento sull'acqua pubblica, che è una legge che noi teniamo pronta, ma anche la riforma della sanità per vietare ai politici regionali di nominare i manager della sanità. Io credo che su questo, se acceleriamo, non ci sarà mai nessun problema per il governo. Io credo in questo governo se fa le cose. E ci ho creduto in questo anno e credo in questo governo perché ci sono ancora tante cose da fare per l'Italia.